Questa mattina Monsignor Moretti è all'Università di Salerno per celebrare una messa in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno accademico. Sì, lui ci ha richiamato con le sue parole un forte senso di responsabilità che nel caso nostro è doppio perché l'Università di Salerno vi decresce il numero di suoi immatricolati. Quest'anno sulle immatricolati primo livello abbiamo un aumento di oltre l'8% in controtendenza nazionale e sicuramente abbiamo ancora di maggior ragione in controtendenza rispetto al sud. Quindi io questo tipo di messaggio l'ho indicato e l'ho immaginato come un forte senso di responsabilità soprattutto il nostro personale, docente e persona tecnica e amministrativo di riuscire a soddisfare le giuste attese degli studenti e delle famiglie che hanno scelto in misura così massiccia la nostra Università. Le famiglie ci hanno affidato il loro bene più alto e bene ricordarselo che sono il futuro dei propri figli e quindi dobbiamo avere un comportamento tipo conseguenziale. Non sono ammissibili distrazioni, abbiamo creato tutte le condizioni per poter far bene, abbiamo fatto una politica spinta tutti insieme, consiglio di amministrazione, senato accademico, consiglio degli studenti per premiare il merito nella carriera degli studenti e quindi rimborsare le tasse agli studenti meritivoli. Oggi è il momento che la nostra comunità deve fare la propria parte e quindi io credo che anche in questa occasione questo può essere un viatico per un buon inizio di anno accademico per tutti noi. Questa mattina all'Università di Salerno per celebrare la Messa in occasione dell'inizio dell'anno accademico. Qual è il suo messaggio agli studenti dell'Università di Salerno? Di vivere questa opportunità cogliendone tutte le potenzialità. Anche nell'Omelia cercavo, illustrando un po' le pagine del Vangelo, di come il Signore per noi è colui che non ci toglie nulla ma aggiunge molto. Quindi di non avere paura di lui perché tutto ciò che è di bello, di buono, di grande, lui come dice nel Vangelo ci dà il centuplo. E credo per giovani che si preparano ad avvivere l'impegno della vita, questo è un messaggio che dà fiducia e che diventa anche una forte motivazione.